Maggioranza e opposizione trovano un accordo sul collegato alla legge finanziaria, avrà un carattere normativo come dal regolamento, non sarà insomma un escamotage per recuperare provvedimenti rimasti fuori dalla manovra come temeva il centro-sinistra. Si è concordato di presentare gli emendamenti nella finanziaria, quindi sarà un oggetto della trattazione della finanziaria. Ma l'intesa sul collegato potrebbe non evitare l'allungamento dei tempi del dibattito in aula al via tra una settimana. Si rischia un secondo mese di esercizio provvisorio. L'opposizione infatti affila le armi e prepara una pioggia di emendamenti ben 450. Solo il gruppo Alleanza Rosso Verde ne presenterà 200. Una sorta di manovra ombra che mette in campo provvedimenti per 420 milioni nei settori chiave della vita economica regionale, lavoro, trasporti, energia, enti locali ed edilizia scolastica. La critica dei Rosso Verdi punta l'indice anche sull'incapacità della giunta Solinas di spendere le risorse disponibili nella sanità per l'abbattimento delle liste d'attesa. Perché erano tantissime quelle risorse, ad oggi non ci risultano che siano state utilizzate e impegnate in nessun modo, anche perché se non si propongono progetti e obiettivi seri per poterlo fare, io credo che non si potranno utilizzare neanche adesso. Sui correttivi non farà sconti nemmeno il Movimento 5 Stelle che preannuncia battaglia in aula. Ci sarà un bellissimo dibattito, io la definirei quasi una lotta ad armi impari. Quello che noi portiamo avanti è sempre un lavoro che, ripeto, vada e intervenga su tutto il territorio regionale sardo e su tutti magari i comuni e su tutte le associazioni e non quelle puntuali che invece hanno quasi, sembra che abbiano un carattere più di scopo elettorale che non quello di intervento di carattere generale migliorativo per tutta la regione.